Perché il Comune di Roma vuole fare adesso la rivoluzione è Drifting, è Drifting Remotion. This is the Drifting Remotion con anche il Tergic South Alshows perché c'è merve nella capitale. An agosto la macchina si porta via e si drifta, si drifta perché a noi ci piace strano, a noi ci piace drift. E' bello il carattere del rivoluzionista, è bello, non ha colpe. Il rivoluzionista non ha colpe, fa il lavoro suo, è chiamato, non è un umbano, non è ziofrenca, assolutamente no. Chiedete il conto del rivoluzionista, sa fa il lavoro suo. BIDE! Viamo. BIDE! BIDE! Ah è bello il carattere del BIDE Mercedes, è autonico, mi faccio il Mercedes perché è affidabile. Sono motori indistruttibili, sta in città a bloccata agenziale. Guarda che hai fatto, guarda che hai fatto. CLK. G? CLK. Che modello? CLK. 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 Eh? Eh? Con quale iniziale? G. G. Ah, G. Come gatto bardo. Guarda che ha fatto. Però mi si è affatta perché affidabile la Mercedes. BIDE? E ora la driftono pure, ora la caricano e sta la driftono. Secondo che stavo male? Guarda che ha fatto. Fatte la setta a sto puttano. Noi ce ne andiamo a puntala. Viva la vita! Tutta la vita! Bella per voi, secondo te stavo male? BOOOO! 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 Grazie.